Abbiamo con noi a seguire la diretta di queste elezioni regionali Luca Rolandi, direttore del settimanale cattolico della Diozia di Torino La Voce del Popolo. A Luca Rolandi chiediamo innanzitutto come è andata la campagna elettorale vista appunto dal punto di vista di un giornalista di un giornale locale. La campagna elettorale noi l'abbiamo affrontata cercando di far emergere la dimensione dei contenuti che ogni candidato e ogni coalizione ha scritto e ha presentato per rispondere ai bisogni del territorio piemontese. È stata una campagna elettorale comunque non facile perché era abbinata a quella europea e caratterizzata anche da una situazione nella quale i cittadini o comunque le persone non hanno avuto modo di avere delle idee particolarmente chiare rispetto ai programmi. Però credo che alla fine la risposta democratica ci sia stata e il senso civico sia risultato sicuramente positivo anche nei limiti e nelle possibilità di ognuno e di coloro che poi si sono avvicinati alle urne e hanno espresso la loro opinione. Ecco, si sta delineando lentamente il nome del Presidente, chi saranno i componenti della giunta? Chiediamo al Direttore della Voce del Popolo che cosa chiede alla nuova giunta? Intanto dico che nel gioco democratico l'alternanza alla guida amministrativa politica di un territorio, di una regione, di una nazione è il sale della democrazia per cui si sta prefigurando una probabile vittoria del candidato del centro-sinistra e comunque al di là della sua affermazione quello che sostanzialmente si chiede e che chiedono soprattutto gli elettori, i cittadini, tutti gli abitanti delle comunità del Piemonte è ascritto a quattro grandi filoni di sfide e di progetti. Il primo è sicuramente il tema dello sviluppo e del lavoro perché la nostra realtà territoriale regionale ha subito in questi anni una profonda trasformazione, ha bisogno di avere indicazioni più chiare rispetto a quello che sarà la sua struttura nei prossimi cinque anni, quindi struttura manifatturiera ma anche le eccellenze dal punto di vista dell'agroalimentare, del turismo, la cultura eccetera. Il secondo grande fronte che poi è gran parte della struttura del bilancio di una regione è quello della cura della persona, quindi la salute soprattutto la sanità e i servizi, c'è un welfare nuovo da organizzare e sicuramente questa è una grande sfida. Il terzo è quello delle infrastrutture che naturalmente comporta un legame con tutto il resto dei territori limitrofi, quindi l'Europa in particolare ma anche le regioni che insieme alla nostra compongono un bacino fondamentale nella struttura della costruzione dell'Europa che tutti si augurano possesso un'Europa meno legata alla dimensione monetaria e finanziaria ma più legata ai bisogni e ad una struttura politica della sua dimensione principale. Infine direi, credo, risposte a un mondo quello giovanile che oggi tendenzialmente emigra perché non trova, nonostante una formazione e una qualificazione adeguata in una realtà come la nostra che ha Atenei di eccellenza, di trovare un proprio futuro dentro al nostro territorio regionale. Le esigenze sono anche quelle dei piccoli comuni, delle piccole comunità a cui un giornale locale come quello che Luca Rolandi dirige può dare voce. Come dare voce anche a queste realtà, chiamiamole minoritarie? Ma intanto perché il Piemonte come tradizione ha tanti giornali che hanno tradizione, cultura diversa, identità diversa, ispirazione da quella cristiana, da quella laica, da quella liberale, quella socialista ma direi che fondamentalmente il territorio e quindi il racconto di tutti i territori del Piemonte attraverso per esempio gli organi di informazione che tradizionalmente erano sulla carta ma progressivamente stanno diventando anche sempre di più digitali, sono un elemento, uno strumento di democrazia allargata e diffusa rispetto ad un rapporto sempre più stretto di controllo, di verifica e di bilancio da parte degli abitanti, cioè dei cittadini, di coloro che abitano e vivono nelle comunità. Il nostro giornale, con piccolo giornale della Diocese di Torino, si occupa anche di questa dimensione e io credo che da questo punto di vista la regione, comunque l'istituzione regionale che da sempre è molto attenta in generale a questa dimensione della comunicazione lo sarà anche in futuro, tenendo conto che la dimensione internazionale, globale è già ampiamente coperta e curata da altri organi di informazione. Grazie 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 Grazie